Diciamo che finalmente si riparte, si torna a fare l'allenamento, a giocare a palla a mano, noi stiamo cercando qui in Abruzzo di ricreare l'ambiente delle nostre squadre di punta, del settore maschile, la nazionale semi, la nazionale 2020 e poi nelle prossime settimane la nazionale 2018, tutte attese da importanti eventi internazionali che già dovevano realizzarsi in questo periodo ma purtroppo a causa dell'emergenza sono stati posticipati all'inizio del 2021. L'Abruzzo è la sede ideale per questo tipo di attività, non è la prima volta che siamo qui a Chieti o comunque a Pescara, a Montesilvano, in un'altra zona dell'Abruzzo dove ci sono condizioni ambientali e impiantistiche favorevoli e quindi siamo contenti di aver ripreso e di aver ripreso. Grazie a tutti!